I suoi parrocchiani si fidavano di lui, ma negli ultimi tempi non sembrava più la stessa persona, quel prete ultra settantenne che, come si è poi appurato, negli ultimi tempi probabilmente circa due anni era riuscito prima a prosciugare i propri risparmi e poi ad attingere alle casse della parrocchia a colpi di decine di migliaia di euro e sempre all'insaputa di tutti. Finché, prelievo dopo prelievo, non ha finito per esaurire tutti i soldi. La storia è venuta alla luce nel momento in cui, per completare una serie di lavori urgenti in parrocchia, è stato costretto a rivolgersi direttamente alla curia, destando così i primi sospetti tra i vertici ecclesiastici. Convocato per dar conto degli ammanchi, pari a circa 350 mila euro, il religioso ha confessato di essersi appropriato di tutti quei soldi per darli a un parrocchiano. I particolari sono poi emersi anche davanti al magistrato da cui si è presentato per autodenunciarsi sulla vicenda. La procura ha infine aperto un fascicolo e riservo, per il momento è totale, ma sarebbero ben due le persone iscritte nel registro degli indagati. Lo stesso sacerdote, che guida una parrocchia delle Frui Collinare, qui viene contestato il reato di appropriazione indebita, e l'uomo al quale ha detto di aver consegnato il denaro, un impiegato di mezza età per il quale potrebbe anche profilarsi l'accusa di circonvenzione di incapace.